Parliamo di questo Ghostbusters Frozen Empire o minaccia glaciale uscito adesso in questi giorni al cinema è il secondo film dopo questo restart della saga dove vediamo la figlia e la nipote di prendere le redini c'è da fare due discorsi separati uno è quello che potrebbe essere appunto la recessione di un film che deve rispettare quello che è l'idea originale dei Ghostbusters quindi mantenere gli aspetti che lo hanno reso famoso eccetera e l'altro modo di giudicare questo film è se funziona per quelli che erano gli obiettivi produttivi di questo film gli obiettivi di questo film non sono assolutamente quelli di mantenere lo spirito iniziale della saga perché secondo voi se vi ricordate lo spirito iniziale della saga ha tantissime cose poco family friendly all'interno per esempio Venkman, il dottor Venkman si vuole trombare Sigourney Weaver ci sono queste scene qua, c'è addirittura una scena dove The Necroid e Ray nei Ghostbusters ha un rapporto sessuale con un fantasma vi ricordate la scena dei pantaloni? ci sono delle persone che muoiono nei Ghostbusters non ci fate molto caso perché sono molto bravi a nasconderlo però ci sono per esempio io ricordo un tassista che viene mi sembra colpito da un fantasma e si trasforma in un morto una roba del genere comunque ci sono delle situazioni in cui delle persone muoiono, si fanno male però è comunque un film che poi finisce bene, non è così cruento però non è un film family friendly, ci sono delle parolacce ci sono degli insulti tra virgolette sessisti ci sono delle cose che oggi non andrebbero assolutamente bene quindi la produzione di questo film non è che ha toppato, ha proprio fatto una scelta la scelta è io rifaccio il film, rifaccio partire la saga ma lo faccio family friendly per le famiglie i Ghostbusters non so se era per famiglie per le famiglie che eravamo noi sì le famiglie che mettevano bambini di 8 anni davanti a Nightmare on Elm Street le famiglie che i ragazzini di 12 anni guardavano Twin Peaks queste erano le famiglie alla nostra epoca ci si preoccupava meno di queste cose oggi invece non è così quindi se l'obiettivo è creare un film family friendly con il tema Ghostbusters il film fa il suo è un film che può divertire questo tipo di target quindi il pubblico generalista e lo può divertire anche perché comunque ha un'ottima regia cioè la regia è fatta bene il regista comunque è Jill Kennan che è il regista di Monster House il cartone animato del 2006 ed è un film che ha anche delle componenti molto divertenti ci sono due o tre gag che veramente fanno ridere soprattutto perché c'è un personaggio riuscitissimo che è il Mastro di Fuoco che è un richiamo ai vecchi film dei Ghostbusters molto molto simpatico molto meglio rispetto a Ghostbusters Legacy molto meglio la sceneggiatura per quanto riguarda la storia principale perché finalmente andiamo a pescare nel passato nella storia quindi nella storia umana della razza umana andiamo a vedere altre maledizioni altre storie del passato in cui ci sono i fantasmi che possono ritornare tutto ciò è raccontato anche molto bene però la sceneggiatura ha comunque dei momenti tremendamente noiosi dopo a metà film inizia il classico momento di stallo e il finale è sbrigativo e un po' così sorprende un po' il fatto che il film si sia preso così tanto tempo per tutta una parte di commedia preparatoria e poi dopo nella parte che doveva essere epica fondamentalmente l'epicità non è molta non è particolarmente riuscito secondo me il finale del film secondo me non è un film così brutto anzi abbastanza divertente per le famiglie ma ecco qua ci metto un ma appunto è un film troppo troppo pulito troppo autocensurato dove non si osa dove non si caratterizzano bene i personaggi a parte appunto questo personaggio divertente che è il master di fuoco gli altri sono tutti un po' così proprio appena abbozzati per esempio c'è il dottor Venkman che appare alla fine non fa quasi niente dice tre battute in croce molto stanco c'è questo personaggio nuovo adesso non mi sovviene il nome aspettate che guardo c'è questo personaggio nuovo che esteticamente è molto bello che è Lars credo che sia richiama vagamente come stile con gli occhiali da nerd il capello un po' alto biondo ricorda un po' appunto Egon Spengler però ecco è un personaggio che quasi mai viene inquadrato quasi mai viene inquadrato bene in viso di fronte cioè non viene mai inquadrato viene sempre inquadrato di striscio ed è un personaggio più interessante bello squipuntare è un Ghostbuster credibile piuttosto che la nipote di Egon Spengler che è una quindicenne o la figlia di Egon Spengler che è la madre appunto di questa quindicenne che è una che non c'entra niente con i Ghostbuster o il marito di questa qui che è anche un altro che è un professore mi sembra di fisica al liceo mentre invece i Ghostbuster appunto Peter, Ray e Egon erano scienziati studiosi professori che studiavano il paranormale aveva tutto aveva questo un criterio per questo dico che il personaggio di Lars è l'unico che invece andava sviluppato perché è l'unico che sembra credibile che sembra un nerd studioso pronto per diventare un'acchiappa fantasmi quindi abbandonare le polverose biblioteche per imbracciare appunto un'arma per acchiappare i fantasmi ecco quello è un po' il senso è tutto un po' un po' troppo votato alla storia familiare di questa famiglia appunto dove lui è l'ex professore della ragazzina che si innamora della madre di lei e quindi appunto si sacrifica anche la parte dei fantasmi i fantasmi stessi sono molto come dire resi un po' disneyani ecco il mostro finale sembra un cattivo di qualche film disney anche dell'epoca del passato questa è una versione molto disneyana dei ghostbuster quindi chi ama i ghostbuster per la loro natura l'essere politicamente scorretti l'essere un po' cattivelli un po' approfittatori un po' furbetti un po' anche appunto sessualizzati perché una sessualità ce l'avevano delle allusioni c'erano nei ghostbuster sulla sessualità questo dimenticatevelo perché qua non c'è e non vuole esserci quindi non è una fail è qualcos'altro come operazione prendo e faccio qualcos'altro con il brand dei ghostbuster la cosa è riuscita alle famiglie piacerà ai ragazzini piccoli piccoli potrebbe piacere le battute fanno ridere è un film che passa passa e secondo me è leggermente migliore di quello prima di ghostbuster legacy è comunque un film che io personalmente non trovo interessante dal mio punto di vista perché preferisco guardare altro però credo in qualche maniera di essere riuscito a darvi gli elementi per capire se questo film può essere un film per voi perché penso che è un suo target ce l'abbia e come quindi sicuramente un fan della saga un fan accanito della saga quantomeno ci andrà ci deve andare per seguire un po' come vanno queste cose io se facessero un seguito della saga di Romero sui morti viventi anche fosse girato da Muccino lo andrei a vedere solo per curiosità vi immaginate un film dei morti dei morti viventi girato da Muccino sono due morti viventi che si urlano addosso ah tu mi hai tradito così tutto questo è un po' tutto perché poi non vi voglio dire cose che possono essere divertenti effettivamente nel film e non ve le voglio spoilerare quelle due o tre cose che funzionano che so' Grazie a tutti